e prima assemblea dell'anno dottor colizio dell'assemblea Gulli per centottanta si parla si lavora si discute di salute mentale eh proseguendo diciamo anche e soprattutto la stata intrapresa dal compianto ex presidente nostro grande amico eh Benito Giglio c'è tanto tanto da fare lavorare. Sì eh sicuramente noi vogliamo dare seguito all'impegno di Benito e anche a quello di chi ha preceduto Benito Giglio no? Mi sono stati negli anni alcuni presidenti o alcune persone che hanno dedicato il loro tempo all'associazione Gulliver centottanta che vorrei ricordare è nata il tredici maggio del duemila otto abbrino di sé. Una data non a caso diciamo simbolica quella in cui nel novecentosettantotto venne approvata la legge centottanta la cosiddetta legge basaglia che fa parte della legge di di forma sanitaria e quindi non poteva un'associazione come questa che si sta avviando al traguardo di quindici anni essere diciamo lasciata a se stesso o addirittura eh dismessa. È difficile fare associazionismo o volontariato in questo tempo soprattutto dopo il periodo pandemico che ha un po' diciamo rimesso nel privato le persone no? Le ha un po' trattenute dall'impegno sociale anche per le difficoltà economiche di salute che questo periodo ha comportato ma va ricordato che proprio il periodo pandemico purtroppo ha scoperchiato i bisogni di salute mentale che già erano tanti e non erano soddisfatti dai servizi pubblici di salute mentale e adesso sono ancora di più perché eh chi aveva delle fragilità e chi non ne ha insomma sia di ragazzi sia di famiglie sia di lanuziani nel periodo pandemico ha visto trasformarsi in criticità questa fragilità e non c'è una risposta ancora pubblica a questo eh non per niente stanno uscendo molti documenti a livello nazionale sia di direttori del dipartimento di salute mentale sia di società scientifiche che si occupano di salute mentale anche in alcuni convegni si parla soprattutto della questione giovanile che sta esplorando nelle più diverse forme di sofferenza ma anche di contrasto sociale o addirittura di dolenza sociale no? Quindi eh diciamo che da questo punto di vista un timido inizio di maggiore consapevolezza sulla necessità di impegnarsi non per la psichiatria attenzione per la salute mentale che è un campo molto più largo e che comprende interventi non solo sanitari ma anche sociali e culturali e diciamo di intervento generale sul territorio c'è questa attenzione ma bisogna dirlo è questa il senso e l'importanza di un'associazione con alcuni del 180 e non c'è una risposta adeguata. L'Italia è uno dei paesi che spende di meno in percentuale sulla eh sulla spesa sanitaria per la la salute mentale. ci sono paesi che spende di 6, 7, 8 per cento noi siamo ancora a meno del 3 per cento quando c'era un impegno già da moltissimi anni di raggiungere perlomeno il 5 per cento. La re una questione di soldi intendiamoci però senza denaro non si assume il personale, non si costruiscono le strutture, gli spazi dove anche far rincontrare persone, famiglie, sostenere i periodi più difficili. Dunque è una grande questione. Noi nel nostro piccolo vogliamo sostenere questo questo lavoro, questo impegno, sensibilizzare di più l'azienda sanitaria locale di Brindisi che sta vivendo tante altre difficoltà, ci rendiamo conto ma bisogna pur capire che la salute mentale è una priorità, una priorità alla pari di tante altre patologie. Dice l'OMS che non c'è salute in generale se non c'è la salute mentale. Cioè tu devi avere un infarto e ti riprendi ma poi magari ti rimane la depressione post infartuale e così per tante altre condizioni. Mentre al contrario puoi avere un tumore, ma stare molto bene in salute mentale e poi affrontare questa battaglia magari anche vincendola. Sto facendo esempi semplici ma ognuno di noi può capire quanto sia importante l'equilibrio mentale dei bambini a scuola, delle famiglie, di chi sta al lavoro, delle persone che assistono anziani con altri problemi a loro volta, i cosiddetti caregiver. E poi l'ultima ma non l'ultima necessità ancora nei confronti delle patologie mentali, soprattutto di alcune, esiste allo stigma. Le persone ancora pensano che sia una malattia di chissà quale tipo, diversa dalle altre, mentre può essere curata benissimo come tutte le altre, o in molti casi possono essere guarite, ma c'è un disturbo, ce ne so addirittura centinaia. E questo stigma però ostacola la cura, perché essere additati vuol dire essere esclusi dalla vita sociale, o addirittura essere discriminati. Questo è un punto focale dell'aguliva, perché l'aguliva ovviamente non può fare pure, non può mettere in piedi strutture, però può raccontare la batteria culturale che c'è da fare, anche incontrando gli studenti dalle scuole, incontrando altre associazioni, producendo documenti, producendo iniziative, come noi faremo appunto a partire da questa prima assemblee del 2023, con un nuovo direttivo, all'interno del quale io sono il vicepresidente, il curatore scientifico, e il presidente, il dottor invece Pino Montanaro, che ha una lunga esperienza come segretario comunale, quindi ci potrà aiutare anche perché conosce come funzionano le istituzioni pubbliche e come funziona anche, come dire, la procedura, i percorsi giuridici. Ecco, lei è il nuovo presidente della associazione, è un ruolo di grande responsabilità ed impegno. Assolutamente sì, mi sento l'onere, ma anche l'onore, di poter portare avanti con l'aiuto, con l'aiuto di tutti, questo incarico, che per me non è un incarico formale, ma per la mia formazione nel tempo diventa un mettermi a servizio, cosa che ho fatto da sempre, mettermi a servizio di un'associazione che lavora in un campo a me molto caro, quello della salute mentale. Non voglio aggiungere molte cose, io parto dalla necessità di confermare quello che ha detto il dottore Colizzi che da anni è impegnato ed è stato lui il fondatore dell'associazione, però nel tempo si è sviluppata questa associazione, grazie anche all'aiuto e al sostegno di tantissime persone, questa associazione non può arretrare, nonostante le difficoltà di questi ultimi due anni, ma deve espandersi, non quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente. certo ci fa piacere se più persone si avvicinano a questa associazione, ma ritengo che il compito di ciascuno di noi è quello di sensibilizzare un lavoro culturale, prima di tutto, perché occorre aiutare le persone a capire che questo problema della salute mentale è un problema che riguarda tutti, non riguarda soltanto alcuni settori della società, alcune persone, riguarda tutti, perché tutti hanno a che fare con questa problematica, è una problematica complessa, però è una problematica affrontabile e naturalmente come tutte le problematiche affrontabili, la comunità, la solidarietà tra le persone può essere di aiuto affinché determinati problemi, che a volte possono anche rimanere, però vengano affrontati con maggiore leggerezza e con la possibilità di poterci convivere nel miglior modo possibile, auspicando naturalmente, laddove possibile, anche la guarigione. È un problema enorme quello che ci troviamo di fronte, a me tremano i polsi, non capisco come a volte quando si prendono degli incarichi con tanta superficialità, si è contenti di fare, io sono onorato, però mi sento addosso tutta la responsabilità di proseguire un cammino, non si tratta di iniziare un cammino, ma di proseguire un cammino.